Buon pomeriggio a tutti. Grazie a tutti voi che siete qua, in persona a quelli che stanno unendo a noi tramite il webcast del sito, la Global Mobility Call, un importante incontro internazionale per promuovere la mobilità sostenibile che la Spagna ospita a Junio e che i Firmadri e Svobhub hanno la durata di organizzare. Viviamo un momento in cui decarbonizzare la nostra mobilità e renderla più sostenibile, resiliente e più necessaria che mai. Proprio ieri l'IPCC puntava la mobilità come uno dei principali settori che deve contribuire a limitare il cambiamento climatico nei prossimi anni. In questo scenario oggi assistiremo a un interessante... Scusate. Qui in questo enclave unico da Monte Giannicolo e grazie all'Università dell'Ambasiatore Spagnolo che ci accoglie tutti gli attori del settore per una trasformazione rapida e profonda. Diamo inizio all'evento con le parole dell'Ambasiatore Spagnolo in Italia, Sua Eccellenza Alfonso Dastis. Buonasera a quelli che sono qui con noi in presenza e anche tutti quelli che ci seguono da remoto. Vorrei ringraziare particolarmente l'On. Alessandro Morelli, Vice Ministro, e tutte le autorità e cari amici che sono qui con noi per la presentazione di questo Global Mobility Call. IFEMA costituisce un punto di riferimento internazionale nell'organizzazione di fiere, congressi ed esposizioni. Per questo sono lieto di accogliere l'iniziativa Global Mobility Call, preseduta del suo amastà il re Felipe VI e sponsorizzata dal Governo spagnolo attraverso il Ministero dei Trasporti, della Mobilità e dell'Agenda Urbana. È un'iniziativa che si svolge in un'area di particolare interesse per migliorare la qualità della vita dei cittadini e contribuire agli obiettivi ambientali oggi al centro delle politiche europee. In pochi ambiti, come in quello della mobilità sostenibile, si concentra così bene ciò che stiamo promuovendo a livello europeo e che ora sta ricevendo un enorme impulso grazie al programma Next Generation EU, in cui sia la Spagna che l'Italia sono i principali protagonisti. In un contesto segnato purtroppo da tre crisi contemporaneamente, la salute, il clima e la diseguaglianza, aggravate da questa deplorevole guerra nel cuore dell'Europa e dall'aumento dei prezzi, i piani di ripresa post-pandemia ci offrono un'opportunità unica per sfruttare la mobilità sostenibile come forza per un impatto sociale, ambientale ed economico positivo, motivi della nascita della Global Mobility Call, il congresso globale che terrà la sua prima edizione quest'anno a Madrid. E Spagna e Italia sono legate da tanti vincoli storici, culturali, sociali e hanno forti rapporti comuni e collaborano già in molti ambiti. Ritengo che la questione oggi in esame sia particolarmente adatta a sviluppare una più stretta collaborazione anche in questo ambito. Le più rappresentative sono già in Italia, nei settori della produzione di energia rinnovabile, della logistica e della mobilità. Sia in Italia che in Spagna abbiamo progetti ambiziosi a livello nazionale, regionale e comunale, in cui la cooperazione tra aziende, istituti pubblici e di ricerca possono solo beneficiarci reciprocamente per i nostri Paesi e che potrebbero essere di interesse nei mercati terzi. Tra questi possiamo il piano di recuperazione, trasformazione e resilienza e il disegno di legge sulla mobilità sostenibile. In Italia vorrei citare la celebrazione degli occhi invernali di Milano e Cortina nel 2000-2026, tema su cui ho avuto modo di parlare con il Vice Ministro Morelli qualche mese fa e su cui sono a conoscenza che è previsto lo sviluppo di infrastrutture all'avanguardia intelligente. Concludo per la serata qui in questo complesso storico, in questo inclave spagnolo nel Gianicolo questa sera. Grazie di essere venuti. l'ambasciatore Alfonso Dastis per il grande onore che ha voluto tutti i presenti rappresentanti del mondo, che con sua eccellenza l'ambasciatore Dastis ha voluto organizzare questa serata quale passo e avvicinamento al Global Mobility Call, che si terrà a maccegno e sensibile ai temi della mobilità. In Spagna il primo scooter bici completamente elettrico, che ora, come sapete, la turista. Sembrava il 19. Quindi il settore dei trasporti è quello in cui si sono fatti i passi in avanti più che in altri ambiti, anche se chiaramente c'è ancora molto da fare e lo vediamo. Nel Next Generation EU e nel PNRR italiano prevedono che, tra gli altri importanti obiettivi strategici, quello della decarbonizzazione proprio di attività e trasporti. 25 capitoli del PNRR sono dedicati alla decarbonizzazione, con altre tante linee di investimento accompagnate da precise riforme settoriali. Per quanto riguarda i trasporti, il PNRR interviene costanziamenti trasversali a diversi ambiti di intervento, quali produzione e distribuzione e uso di biometano e di idrogeno per circa 5 miliardi di euro, anche per limitare la dipendenza da carburanti tradizionali, specie se ottenuti da fonti fossili di importazione. Trasporto locale per più di 8 miliardi di euro, che seguirebbero quelli già realizzati in Francia e in Germania e che hanno dei tempi di realizzazione in medio termine, da cui l'esigenza nel breve termine di approvvigionarsi delle materie prime della componentistica occorrenti, imitando il quasi monopolio produttivo dell'estremo oriente, che ci espone per cause diverse all'auscillazione dei prezzi di mercato. Un'idea possibile sarebbe ricercare a livello europeo partner commerciali internazionali differenti, affidabili, con cui stipulare contratti di fornitura che siano comuni e a lungo termine, ottenere così dei costi bloccati e, anzi, questo è un forte interesse più contenuti. Quindi uniforme per i singoli paesi dell'Unione, delle materie prime e della componentistica di base per dare impulso alla produzione di mezzi e di strutture di nuova generazione. Quindi obiettivi comuni per un'azione comune, per salvaguardare la crescita dei nostri paesi e ad attualizzarla, adeguarla alle esigenze imposte al mercato globale e per proteggerla dalle criticità economiche e geopolitiche, anche improvvise, e purtroppo ne siamo perfettamente coscienti in questo periodo. Mi auguro che opportunità come queste, con gli ottimi ed invidiabili rapporti che legano due grandi paesi mediterranei come la Spagna e l'Italia, possano essere utili a sviluppare forme tematiche di partenariato, anche favorendo l'incontro tra istituzione, mondo della ricerca, università e imprenditoria. È la condivisione delle nostre conoscenze e delle nostre esperienze che ci permetterà di essere più forti e vincere le sfide imposte dal mondo che verrà, anche uscendo dalle situazioni di crisi che lo minacciano in maniera contingente. E da allora mi vengono in mente le parole scrittrice spagnola Ana Maria Matute. Il mondo dobbiamo crearcelo, dobbiamo creare i gradini che lo portino su, che lo portino fuori dal pozzo. Grazie di nuovo e buon lavoro a tutti. Grazie onorevole Ministro Alessandro Morelli. È proprio con la stessa convinzione che il futuro deve essere sostenibile, che stiamo lavorando ai Fema Madrid per fornire al mondo un forum di incontro unico, Global Mobility Call. Della visione e degli obiettivi della prima edizione di questo congresso unico al mondo ci parla a continuazione Edoardo López Buon pomeriggio, grazie mille ambasciatore per aver reso possibile questo evento. Onorevole Morelli, viceminestro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, grazie per essere qui. Grazie Eleonora Rizzuto per aver accettato la moderazione di La Tavola Rotonda e grazie a Gianluca Landolina, Elisabetta Ripa, Gianmarco Giorda e Valentino Sevino per la sua presenza. Il mio ringraziamento vanno anche a tutte le persone che ci hanno aiutato a portarvi qui oggi. Grazie consiglieri, signore e signori. Vi ringrazio molto per essere venuti a questa presentazione del nostro grande progetto per il 2022, Global Mobility Call. Un progetto che nasce con l'ambizione di diventare un riferimento globale per la mobilità sostenibile. Siamo venuti a Roma dopo aver presentato il progetto alla Copp di Glasgow, così come a Parigi, all'Expo Universale di Dubai e a Lisbona. Oggi siamo qui per illustrarvi questa grande iniziativa di FEMA Madrid, alla quale stiamo lavorando e per la quale stiamo cercando un appoggio internazionale per il suo successo. Global Mobility Call è, nel suo settore, il progetto fieristico congressuale più importante in Europa in questo periodo di pandemia. Per i FEMA Madrid è estremamente importante condividere con tutti voi la nascita di questo incontro. L'Italia è un riferimento fondamentale per la nostra organizzazione. Il gruppo di fiere che organizziamo include l'Italia come uno dei paesi con la più alta partecipazione sia di aziende espositrici che di visitatori, dimostrando gli intensi legami culturali ed economici che ci uniscono. Global Mobility Call è l'evento pioneristico e il punto di riferimento internazionale per la promozione di una mobilità sostenibile, sicura e inclusiva, adatta alle sfide del futuro attraverso un approccio ambizioso, olistico e trasversale. Viviamo in un'epoca di profondi cambiamenti in termini di mobilità, di trasformazione della industria, in cui la società richiede nuovi modi di muoversi. C'è ancora tempo per realizzare progetti innovativi e ambiziosi da abbinare grazie all'opportunità offerta dai fondi di recupero che prevedono quasi 20 miliardi di euro per questo settore, che anche tempo per incoraggiare la collaborazione tra pubblico e privato e per approfittare delle opportunità di sviluppo e investimento offerte dai fondi Next Generation EU. Global Mobility Call è un progetto diretto al settore aziendale e istituzionale. In soli tre giorni l'evento riunirà i decision maker e gli esecutori della trasformazione della mobilità. Dichiarato evento di eccezionale interesse pubblico e fortemente sostenuto dell'administrazione statale spagnola, guidata dal Ministero dei Trasporti, della mobilità e dell'agenda urbana e con la partecipazione delle comunità autonome, enti locali, FEMP, associazioni, l'UE, l'Agenzie delle Nazioni Unite, organizzazioni multilaterali, grandi aziende, PMI, start-up. In breve, tutti i consigliatori di questo ecosistema responsabili per lo sviluppo della mobilità integrata e sostenibile. Il clou della Global Mobility Call sarà l'agenda di presentazioni e forum che promuoveranno contenuti all'avanguardia nella tecnologia e nei modelli di business. Abbiamo già una schiera di relatori, leader mondiali prestigiosi come Adina Vallean, commissario europeo per i trasporti, Luis Gallego, CEO di IAG, l'economista Jeffrey Sachs, Antonio Bufrau, CEO di Repsol e molti altri che presenteranno la loro visione del futuro sostenibile della mobilità. Global Mobility Call mira promuovere la ripresa economica e sociale dopo la pandemia, contribuire alla resilienza energetica di fronte agli shock internazionale e sfruttare le opportunità di sviluppo sostenibile presentate dal Patto Verde europeo e dai fondi Next Generation EU. Global Mobility mira a colmare l'evidente mancanza di leadership nella mobilità sostenibile in Europa e a promuovere il consenso e la coesione. Mira ad essere il forum per generare strategie comuni, sfruttare le sinergie e condividere conoscenze, esperienze e dibattiti. La mobilità sostenibile è uno dei concetti centrali della società odierna e ha il potenziale per trasformare milioni di persone, comunità, imprese, settorie, paesi e tutto il mondo. Rappresenta un mercato che, secondo lo studio realizzato dall'Associazione Spagnola dei Construttori di Automobili, ANFAC, entro il 2040 aggiungerà 310 milioni di euro di fatturato nel nostro Paese, tra 860 milioni e 1,4 milioni di posti di lavoro e comporterà un investimento per tutti i settori coinvolti di 54 miliardi di euro o, in altre parole, il 5% del PIL annuale della Spagna. Significa quindi un'enorme opportunità di business in cui crediamo di dover coinvolgere le aziende italiane, un'opportunità che si rafforza ulteriormente in questi tempi di ripresa post-pandemica per questi settori strategici che beneficeranno dei fondi Next Generation e che sicuramente susciteranno l'interesse della business community internazionale in un momento chiave in cui l'Europa sta ridefinendo la mobilità sostenibile. In Europa, infatti, il pacchetto di stimoli Next Generation ha un budget di 750 miliardi di euro per incentivare la mobilità verde, digitale e resiliente. Per tutte queste ragioni, Global Mobility Call apre un'escelente sfida al settore imprenditoriale italiano e internazionale per unirsi a questa potente iniziativa che porterà, a partire da questo evento, il rafforzamento delle reti professionali e a trovare partner affini per sviluppare nuovi progetti. Darà anche la possibilità di esplorare nuove tecnologie ispiratrici, nuovi modelli di business e nuove catene di valori. Vorrei concludere estendendo il nostro invito a partecipare alla Global Mobility Call che si terrà dal 14 al 16 giugno, dove ci aspettiamo più di 7.000 visitatori, più di 150 espositori e oltre 100 conferenze, con più di 250 relatori invitati e leader internazionali, nonché 150 start-up e investitori. Non vediamo l'ora di vedervi lì. Grazie mille. People are movement. Society and economy are movement. The world is movement. But nothing is the same anymore. Mobility is not an end in itself. It is the path towards a connected, cleaner, safer and more inclusive society, in which citizens are at the core of every initiative. Together, we have to face different challenges that affect all of us and will play a major role in the development of global society. In the face of the triple health, climate and inequalities crises, the post-pandemic recovery plans offer us a once in a lifetime opportunity to harness sustainable mobility as a force for creating positive, social, environmental and economic impact. Spain's public and private institutions and companies are joining forces for the Global Mobility Call at a time when Europe is redefining sustainable mobility. Il Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia sitúa, como uno de sus ejes muy importantes, la movilidad sostenible, con más de 13.000 millones de euros destinados a esta componente, a la movilidad sostenible. La principal inversión del plan se sitúa aquí. La obligación, la responsabilidad, el reto de las administraciones es poner a su disposición opciones alternativas de calidad, intermodales, que sean eficientes, que sean seguras, que sean sostenibles, que sean accesibles. Las políticas de sostenibilidad, en definitiva, nos vinculan y nos unen a todas las grandes ciudades, porque ante los mismos problemas, ante los mismos retos, tenemos que ser capaces de encontrar soluciones. Por eso, me gustaría invitarles a todos ustedes a Global Mobility Call, que se va a celebrar en IFEMA en junio. Esta es la razón por la que la llamada Global Mobility Call, un espacio global, multisector conectado en el espacio donde enfrentaremos los desafíos de las necesidades de la sociedad. Porque no queremos ser únicos usuarios, queremos ser los que lideran el camino. La innovación es la fuerza de la nueva sociedad y la inspiración para enfrentar un futuro que ya está aquí. Un espacio para los debates inspirantes para establecer una visión común de la movilidad sostenible. Global Mobility, featuring the main world leaders that are transforming society. Where the following contents will play a key role, technology, data and innovation, new urban planning, sustainable transportation of people and goods, economic development and regulation, and the society of the future. It will be a platform for the future society, which will focus on new generations, on the rural development challenge and boosting the growth of new business models. A unique networking and business space that will connect this ecosystem that will define the future of sustainable mobility. Global Mobility Call has arrived to become the global reference for sustainable mobility. The place that will bring together all the key actors that will plan the future of a connected, greener, safer and more inclusive society. You'll find all this from the 14th to the 16th of June 2022 at EFEMA Madrid. Global Mobility Call has arrived. 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 decarbonizzare la mobilità per accelerare l'imprenditoria verde grazie buonasera ringrazio sua eccellenza l'ambasciatore IFEMA per avermi dato questa possibilità unica saluto il viceministro grazie per questa opportunità oggi ci troviamo davanti a uno dei momenti in cui magari molti di noi che hanno iniziato a operare sulla sostenibilità quasi 18 anni fa pensano che ne sia valsa la pena perché diciamo in un contesto di questo genere accolti da un paese che ha una struttura industriale produttiva non distante dalla nostra, dall'italiana in un momento storicamente drammatico, tragico che ci ha visto vivere e ci sta facendo ancora vivere la guerra non lontano da noi e ancora prima una pandemia che ha devastato il mondo intero ci porta anche a focalizzare quando è possibile su temi di questo genere la mobilità sostenibile il tema su cui oggi ho il piacere di presentarvi brevemente farò questa introduzione agli ospiti i relatori che abbiamo con noi rappresenta probabilmente uno dei temi focali dello sviluppo sostenibile io oggi sono in rappresentanza di ISEC associazione italiana per lo sviluppo dell'economia circolare che ho fondato sono ancora presidente sei anni fa e con ASVIS cui a suo tempo il portavoce era l'attuale ministro Enrico Giovannini si iniziò questo percorso e le tematiche che vedremo anche oggi dibattute intorno alla sostenibilità nella mobilità ci vede diciamo concentrati su un unico obiettivo quello di in effetti decarbonizzare il più possibile con degli obiettivi che siano concretamente realizzabili secondo gli accordi di Parigi in un'ottica ormai condivisa ricordo che solo qualche mese fa la nostra costituzione quella italiana ha avuto per la prima volta l'inserimento della tutela ambientale al pari di quella per esempio paesaggistica già presente e questo non è un segnale solo formale è un messaggio che un paese europeo dà e che si trova all'interno di una compagine tesa e protesa alla realizzazione di questo obiettivo oggi grazie all'invito di IFEMA abbiamo la possibilità di ragionare di scambiare delle riflessioni su questo tema quindi ho il piacere davvero di presentarvi le persone qui con me partiamo dall'Elisabetta Ripa la dottoressa Ripa amministratore delegato di Enelix e poi appunto passeremo a Valentino Sevino il direttore generale di AMAT l'agenzia mobilità ambiente e territorio di Milano con Gianmarco Giorda direttore dell'associazione nazionale filiera industria automobilistica ANFIA per concludere con Giancarlo Landolina amministratore delegato di Cellinex naturalmente sarà una moderazione aperta a un dibattito quindi mi siedo con loro se permettete e non so se funziona il microfono ancora mi sentite perfetto inizierei con Elisabetta Ripa che ha questa missione di portare avanti un'impresa importante di Enel interamente totalmente dedicata proprio alla mobilità elettrica quindi ecco io le chiederei di parlarci di questa realtà che è un fiore all'occhiello insomma nel nostro paese intanto buonasera a tutti grazie per questo invito eccellenza molto gradito buonasera onorevole e buonasera a IFEMA che ha questa splendida iniziativa io mi auguro che il Global Mobility Call sia per la mobilità sostenibile quello il grandissimo successo che il GSM World Congress è stato nel passato per la mobilità nell'ambito delle telecomunicazioni indubbiamente è stato possibile concentrare in quell'evento lo sviluppo la definizione dei piani strategici delle road map rappresentando indubbiamente un momento di grande crescita e di anche condivisione quindi mi auguro che riusciate a replicare quel successo allora parlare di mobilità sostenibile è rilevante e anche perché come sappiamo un quarto delle emissioni oggi deriva dai trasporti quindi se vogliamo parlare di decarbonizzazione non possiamo che partire dal tema dei trasporti per Enel che ha fatto della missione diciamo della sostenibilità e della decarbonizzazione la propria missione di sviluppo e anche il suo fondamento di crescita strategica quindi non si poteva prescindere dalla focalizzazione sull'ambito della mobilità della mobilità elettrica perché per noi è così che si declina la mobilità sostenibile attraverso anche un impegno che ormai da anni si sta dedicando all'attività ma in questi mesi anche con un'ulteriore accelerazione e focalizzazione che ha portato alla creazione di questo gruppo di società che ho il piacere di guidare e che appunto ha l'obiettivo di essere focalizzati sulla mobilità elettrica nei 17 paesi in cui operiamo perché l'attività non è concentrata solo in Italia e in Spagna attraverso Endesa X-Way che rappresenta sicuramente una realtà e lo rappresenterà anche nel futuro molto importante per trainare la transizione verso la mobilità elettrica ma anche in Sud America e in tutti i paesi dove il gruppo Enel è presente con la propria diciamo offerta nelle diverse fasi del ciclo di vita e di business model presente è un'ulteriore testimonianza questa focalizzazione che stiamo dando al fatto che crediamo che sia arrivato il momento di concentrare gli sforzi perché ormai nessuno penso mette più in discussione il fatto che la transizione alla mobilità elettrica stia avviando si stia avviando quindi adesso si tratta sicuramente di dare una severa accelerazione e soprattutto per i nostri paesi per i paesi dell'Italia ma anche della Spagna dare quel colpo di reni che ci consente di avvicinarci alla penetrazione che la mobilità elettrica ha già nel nord Europa dove siamo già a livelli intorno al 20% del parco in circolazione mentre noi ancora viaggiamo fra un 6% dell'Italia e un 3% stiracchiato della Spagna quindi possiamo sicuramente fare meglio possiamo crescere possiamo sicuramente attraverso una determinata e una convinta anche attività di costruzione dell'ecosistema perché le grandi innovazioni come è stato per le telecomunicazioni così penso per la mobilità elettrica le grandi innovazioni non si realizzano da sole si realizzano attraverso un sistema ed è quindi questo l'obiettivo del gruppo Enel quello di mettere a fattore comune le proprie infrastrutture il proprio know-how per determinare una forte accelerazione dello sviluppo bene grazie per questo primo intervento in parte le sue osservazioni mi portano a dare intanto a salutare il direttore generale di Anfi appunto Gianmarco Giorda a cui chiederei visto che è stato insomma anche nominata una certa industria ecco qual è diciamo intanto si dice in due parole quello che è appunto la sua realtà ma cosa intravede e quali sono le prospettive per un'industria che nel nostro paese è stata trainante e lo è ancora anche in ottica internazionale buonasera a tutti grazie per l'invito all'ambasciatore saluto il viceministro e il direttore della fiera di Madrid due parole proprio velocissimamente su Anfia Anfia è l'associazione che rappresenta tutta la filiera dell'automotive in Italia i costruttori i componentisti e l'azienda del design dell'engine per fare un esempio con la controparte spagnola siamo Anfac più Cernauto insieme per cui abbiamo le due anime in una stessa associazione settore automotica in Italia continua a rappresentare il motore della nostra manifattura abbiamo circa 5500 aziende un centinaio di miliardi di euro di fatturato il 50% di export e un 5% di incidenza sul PIL al di là di questi numeri adesso vorrei darvi invece qual è diciamo la nostra posizione il nostro sentiment rispetto alla decarbonizzazione e alla mobilità sostenibile innanzitutto sgombro qualsiasi dubbio dal fatto che l'industria automotica italiana è assolutamente a favore della decarbonizzazione a favore di una mobilità veramente sostenibile per cui noi abbracciamo e cavalchiamo la mobilità elettrica questo lo voglio sottolineare perché qualche volta si pensa ancora che l'industria dell'auto sia in una posizione di retroguardia rispetto invece alle frontiere di sviluppo che il settore deve affrontare assolutamente no noi appunto siamo convinti che il percorso verso la mobilità elettrica sia un percorso avviato d'altra parte se uno legge e guarda gli annunci dei principali costruttori automotive mondiali tutti quanti stanno lanciando hanno già lanciato dei prodotti totalmente elettrici e anzi hanno dei target anche importanti per i prossimi anni però e dico però noi riteniamo che questo percorso verso la decarbonizzazione debba avere due caratteristiche fondamentalmente il primo una caratteristica diciamo più di metodo e cioè deve avere un approccio da un punto di vista tecnologico neutrale e poi spiegherò che cosa vuol dire per noi la neutralità tecnologica dall'altro invece un approccio più di tipo strategico cioè questa transizione deve essere assolutamente gestita con un ecosistema che va in qualche modo costruito intorno al settore altrimenti rischiamo di creare dei danni importanti all'industria dell'auto ma soprattutto danni importanti a tante aziende che in questi anni si sono sviluppate e si sono chiaramente evolute in questo settore cosa vuol dire per noi neutralità tecnologica vuol dire che al centro ci deve essere mobilità elettrica perché lo dicevo prima è un percorso mai avviato però è importante che la politica dia dei target al 30 al 2035 ma non specifici non specifici scusate in qualche modo quelle che sono le tecnologie e i percorsi che l'industria deve in qualche modo mettere in campo per arrivare a questi target è importante che ci siano anche altre soluzioni oltre all'elettrificazione faccio per esempio riferimento ai biocombustibili piuttosto che ai carburanti sintetici ma anche all'idrogeno come vettore per motori termici oppure chiaramente all'idrogeno fuel cell ci sono missioni diverse che chiaramente il mondo dei trasporti ha da una parte ci sono le autovetture ma dall'altra ci sono i veicoli come c'è i leggeri ci sono i camion per cui a seconda chiaramente delle emissioni e delle caratteristiche d'uso è importante individuare delle tecnologie che possono contribuire in maniera significativa appunto alla decarbonizzazione del mondo dei trasporti l'altro tema fondamentale che dicevo prima è quello che appunto questo percorso va gestito in maniera proattiva va gestito e magari dopo spiegherò secondo noi quali sono le tre leve importanti per gestire questo percorso le cito solamente da una parte una politica industriale importante con degli strumenti anche nuovi straordinari perché il momento è particolare dall'altra un set di incentivi alla domanda soprattutto per la mobilità elettrica è il terzo aspetto che riguarda forse più la collega di Enel e lavorare in maniera molto molto più ficcante rispetto a quello che si è fatto oggi sulle infrastrutture soprattutto per il residenziale che rimane una delle componenti forse un po' più deboli in Italia che va nei prossimi anni sicuramente alimentata e migliorata ne parliamo anche insomma anche nel secondo round di riflessioni ma una cosa importante volevo chiederle circa questo diciamo lei ha citato l'ecosistema sicuramente che è un concetto che è emerso anche nell'altro intervento ma questa transizione impattando anche appunto una gradualità di approccio ecco qual è la sua visione ad esempio sull'impatto occupazionale perché comunque la sostenibilità per realizzarsi deve avere sempre i tre fattori è quello economico ambientale e sociale che sia rispettato nelle sue componenti qual è la sua percezione e la sua visione cioè lei pensa che si possa poi arrivare a una transizione effettiva tenendo presente questo fattore sicuramente sì devo dire che a oggi sono un po' preoccupato siamo un po' preoccupati perché giusto per dare qualche numero in Italia abbiamo circa 400 450 aziende per circa 70.000 persone impiegate che oggi lavorano in qualche modo su quelli che sono i domini più tradizionali dell'auto per cui componenti per i motori termici chi fa cilindri chi fa serbatoi tutti componenti che ovviamente sull'auto elettrica non ci sono più per cui noi dobbiamo come dicevo prima gestire questo cambiamento ben venga e ringrazio il governo anche di aver inserito questo fondo da 8 miliardi e 7 per i prossimi anni che ha una finalità anche proprio di aiutare la riconversione di questa filiera però quello che voglio dire in maniera molto chiara è che noi reputiamo e pensiamo che probabilmente non ci sarà spazio per tutti un'auto elettrica ha un sesto un settimo dei componenti di un'auto combustione termica un motore elettrico ha circa 50 componenti rispetto a 300 componenti di un motore a benzino diesel e per cui c'è un tema di come riconvertire la filiera però probabilmente gli spazi non sono come dire disponibili per tutti per cui noi dobbiamo anche grazie a questi fondi traguardare alcune di queste aziende anche su tecnologie e su comparti diversi dal settore dell'auto e aiutare poi chiaramente quelle aziende che non ce la faranno perché ci saranno come in tutte le transizioni anche purtroppo aziende che non riusciranno a cavalcare quest'onda in qualche modo aiutarle con anche degli ammortizzatori sociali e con degli strumenti attivi che diano una mano in qualche modo a quelle aziende che ahimè non riusciranno a farci perché non voglio dare un messaggio negativo però bisogna essere in qualche modo realisti e vedere le cose per quello che sono parleremo anche più tardi con anche la diciamo l'aspetto innovazione quanto può essere importante in questo campo nella mobilità sostenibile e appunto parlando accennando anche alle nuove professioni ai nuovi rami di azienda che magari oggi facciamo ancora fatica a intravedere ma ci possono essere io vorrei appunto sentire Gianluca Landolina che è appunto l'amministratore delegato di Cenex e tra l'altro appunto occupandosi di telecomunicazioni ricopre anche un aspetto fondamentale per anche la fruibilità del consumatore dell'utente in pochi sanno che cosa fate secondo la percezione ecco ci vuole spiegare quale è il ruolo in questo contesto di un'azienda come quella che rappresenta sì buonasera saluto ringrazio l'ambasciatore Dastis per la sempre splendida accoglienza il viceministro Morelli per essere qui e tutti voi Cenex è una società di infrastrutture di telecomunicazione la principale società indipendente di infrastrutture di telecomunicazione in Italia fa parte di un gruppo di una holding spagnola multinazionale che è presente in 13 paesi in Europa noi ci occupiamo di infrastrutture di telecomunicazione siamo poco noti al pubblico perché i nostri clienti sono gli operatori telefonici tutti in Italia tutti quelli che conoscete mobili e fissi wireless abbiamo copriamo capillarmente l'intera nazione e andiamo a fornire coperture di telecomunicazione ovunque essa serve considerate in Italia esistono 46 mila torri che sono un po' bruttine sono poco accostabili alla sostenibilità apparentemente noi ne possediamo 20 mila di queste 46 mila quindi appariremmo poco sostenibili ma soltanto in superficie andiamo a infittire questa copertura ovunque essa serva quindi ovunque la torre di telecomunicazione non riesca a portare adeguata copertura per esempio sottoterra in metropolitana a Milano si parla al telefono grazie a un impianto Selnex oppure ovunque vi sia un grandissimo addensamento antropico pensate a uno stadio quando la palla in aria di regore tutti quanti desiderino fare la foto il video e mandarlo contemporaneamente quindi lo stadio di San Siro Juventus Stadium lo stadio olimpico sono coperti da noi oppure ovunque la torre è talmente brutta è considerata talmente inadeguata che viene espulsa dal contesto e è considerata inaccettabile il quartiere barocco di Ortigia Siracusa Protetto Unesco l'intera cittadina di Erice o l'intera cittadina di Ciampino o il centro storico di Milano sono coperti da Selnex noi siamo nati siamo arrivati in Italia sette anni fa e ci occupiamo di sostenibilità da sei anni e undici mesi il primo mese abbiamo dovuto capire più o meno dove fossimo e non può che essere così la mobilità si dovrebbe parlare di mobilità perché se la mobilità non è sostenibile verrà espulsa dal contesto sociale che stiamo sempre più avendo e che avremo tra un anno due anni cinque anni tutto ciò che faremo che opereremo che penseremo se non sarà sostenibile non sarà accettato non sarà tollerato più che accettato dalla nostra stessa società il che significa da noi stessi Selnex Italia è stata la prima azienda al mondo ad essere certificata ISI che è una certificazione certificata dalla DNV che è una delle principali multinazionali della certificazione al mondo riconosciuta a Credia e che ha appunto acclarato che la sostenibilità è entrata in tutti i nostri gangli decisionali dell'azienda a qualsiasi livello e in tutti i processi esecutivi quindi non c'è l'amministratore delegato che spinge perché si faccia qualcosa di sostenibile perché non sarebbe sostenibile perché sparendo l'amministratore delegato quella roba lì smetterebbe di esistere è l'azienda che pensa sostenibile che investe sostenibile che valuta dei progetti finanziari in funzione della loro sostenibilità e così anche una torre più o meno brutta può diventare sostenibile può evitare di impattare nell'ambiente cosa c'entrano le telecomunicazioni con la mobilità secondo me c'entrano tantissimo perché la mobilità in questo caso la mobilità elettrica perché si diffonda deve essere semplicemente comoda e perché sia comoda deve essere comoda per l'utente che in un display che sia quello dell'auto o sia quello del telefonino deve gestire le proprie ansie e inseguire i propri desideri quindi deve sapere che esiste una colonnina che questa colonnina sia disponibile deve sapere in anticipo quanto tempo sia necessario con quel tipo di colonnina ricaricare la sua auto deve affrontare un viaggio nella più totale serenità e quindi per questo motivo le telecomunicazioni sono parecchio e intimamente interrelate anche con la mobilità grazie per questa spiegazione perché è una dei settori il suo si ha ancora fatica a percepirla dal punto di vista dell'utente poi della mobilità invece è importante e però ha citato anche un fatto e un'area delicata importante per tutti noi cioè la copertura di spazi comuni ha parlato di stadio ma ha parlato anche di metropolitana e questo mi permette di salutare e di appunto chiedere a Valentino Sevino direttore appunto generale di AMAT l'agenzia sulla mobilità ambiente e territorio proprio della città di Milano quanto sia vero il legame tra ogni progettazione di mobilità sostenibile perché abbiamo parlato di auto ma c'è anche altro diciamo non è solo questo e un territorio vissuto e quindi dove esiste vita quindi cittadini comunità che si dibattono quotidianamente per le loro attività prego grazie permettetemi innanzitutto di unirmi a ringraziamenti al signor ambasciatore per la presenza del viceministro e a Difema sì le città rispetto a quanto è stato detto fino adesso sono sicuramente l'elemento catalizzante della comunicazione della mobilità quindi dei veicoli e della mobilità elettrica quindi delle infrastrutture per la ricarica elettrica noi come agenzia mobilità ambiente quindi supportiamo l'amministrazione comunale nello sviluppo nella definizione nello studio delle politiche legate alla mobilità e sicuramente molti aspetti che sono stati citati questa sera sono stati inseriti all'interno del piano urbano della mobilità sostenibile di cui la città di Milano si è dotata a otto è stato approvato nel novembre 2018 e nell'ambito del piano urbano della mobilità sostenibile si sono definiti degli obiettivi degli obiettivi da raggiungere nell'arco di dieci anni tra il 2028 e il 2030 il piano urbano della mobilità sostenibile avrebbe dovuto raggiungere i suoi obiettivi che erano stati identificati solo un'informazione a partire dal 2020 il trasporto pubblico della città di Milano ha visto due momenti di massimo picco verso febbraio 2020 fino a febbraio 2020 e il suo punto minimo storico di utilizzo il giorno dopo di Pasqua del 2020 e nel giro di qualche settimana veramente si sono verificati i due opposti dal punto di vista dell'utilizzo del trasporto pubblico il tema della pandemia ha fatto ha fatto pensare alle città a una nuova modalità di approccio della mobilità e la città a sua volta ha dovuto rigenerare alcuni obiettivi che si era definita nell'ambito del piano urbano della mobilità sostenibile l'agenzia ha fornito dati monitoravamo dati e continuiamo a farlo ancora oggi nonostante siamo usciti da qualche giorno dal periodo di emergenza continuiamo a fornire dati di utilizzo del trasporto pubblico dati di frequentazione e congestione della rete stradale giorno dopo giorno per trovare il giusto equilibrio tra regole e necessità di spostamento ci sono stati dei periodi durante il periodo di emergenza in cui le regole cambiavano quasi di giorno in giorno e l'amministrazione grazie a questo supporto tecnico che noi fornivamo con questi monitoraggi continui riusciva a definire questo giusto equilibrio per garantire alla città di continuare a vivere nonostante quello che si stava vivendo questo comunque ha permesso di accelerare alcuni obiettivi che erano stati definiti nell'ambito del piano della mobilità sostenibile ad esempio quando avevamo identificato la rete di ricarica elettrica per garantire la possibilità di avere una mobilità elettrica in città avevamo identificato un obiettivo e poi nell'identificare questo obiettivo avevamo abbassato o meglio identificato un ulteriore scenario quindi avevamo identificato uno scenario di massima e uno scenario di minima rispetto alla rete di ricarica elettrica ebbene lo scorso anno quindi a fine 2021 la città di Milano ha raggiunto in termini di numero di punti di ricarica elettrica lo scenario massimo che avevamo identificato infatti adesso stiamo ridefinendo un aggiornamento del piano della rete di ricarica elettrica proprio perché abbiamo raggiunto il massimo che avevamo identificato nel piano urbano della mobilità sostenibile e succede a Milano e lo vediamo anche diciamo anche chi viene da fuori quindi una certa efficienza una certa anche diciamo visione come fare a portare il modello Milano per esempio ad Agrigento ne parlavamo prima quando eravamo in biblioteca a parlare tra di noi perché è interessante anche poter esportare in altre città italiane questo modello che è virtuoso a suo avviso qual è la ricetta per poterlo fare secondo me quando si parla di mobilità sostenibile bisogna pensare che la mobilità sostenibile è opportunità di scelta quindi i soggetti devono l'utenza il cittadino chi vive la città deve avere l'opportunità di scegliere il sistema migliore per soddisfare l'esigenza di mobilità di quel determinato momento che potrebbe essere differente dall'esigenza di mobilità magari del viaggio di ritorno quindi sicuramente creare delle opportunità ovviamente creare delle opportunità non è così facile in tutti gli ambienti in tutti i contesti urbani quindi ogni contesto urbano va analizzato a sé e nell'ambito di quelle che sono le specificità di ogni contesto urbano trovare le giuste soluzioni ma avendo sempre l'obiettivo di creare le opportunità la ringrazio Elisabetta Ripa abbiamo parlato appunto delle possibilità che il settore ha ancora del potenziale diciamo nonostante sia matura l'industria di questo genere a suo avviso l'innovazione che ruolo può giocare la ricerca insomma la possibilità di utilizzare l'alta tecnologia nella mobilità sostenibile in generale e poi anche insomma soprattutto nel suo settore ma l'innovazione gioca un ruolo fondamentale nella transizione energetica in tutti i settori questo è in dubbio lo abbiamo visto negli anni passati ed è stato proprio l'attenzione e la focalizzazione all'innovazione che ci ha consentito di anche come paese come Italia anche grazie al lavoro di Enel acquisire una posizione tutto sommato diciamo migliore di quello che sarebbe potuta essere stante la situazione geopolitica e le caratteristiche del nostro paese in termini sia di dipendenza dalle fonti energetiche diciamo straniere internazionali sia per quanto riguarda la sostenibilità economica dello sviluppo e delle fonti di energia insomma il nostro paese può contare su un quarto della produzione di energia da fonti rinnovabili sicuramente sarebbe stato meglio se fosse stato di più ma penso che nel confronto diciamo già ci posizioniamo meglio in termini relativi ad altri paesi e questo è stato possibile perché sull'innovazione sicuramente Enel ma tutte le aziende del settore hanno giocato un ruolo importante hanno investito e ci hanno creduto io penso che anche nella mobilità l'innovazione è fondamentale ed è impensabile un po' come diceva Gianluca pensare di rallentare o di non indirizzare quella che è la richiesta del mercato richiesta del mercato diciamo così trasversale ma in particolare dei nuovi segmenti di clientela potenziale nessuno ormai pensa di poter utilizzare lo stesso modello di sviluppo del mercato dell'automotive di 10-20 anni fa sappiamo tutti che i nostri figli non vogliono auto di proprietà ma pensano alla condivisione sappiamo tutti che i nostri figli non salgono su un'auto se non è sostenibile quindi di fronte a queste nuove esigenze che sono conclamate da parte della domanda dobbiamo necessariamente abbracciare e andare incontro a mio avviso all'innovazione non cercare di frenare lo sviluppo e la transizione perché ogni volta ogni volta che il nostro paese ma in generale che le economie hanno cercato di difendere lo status quo nei confronti dell'innovazione attraverso politiche diciamo così di difesa e di conservazione hanno pagato questo credo che sia evidente il conto anche più salato di quello che sarebbe stato questo non significa che dobbiamo ovviamente disinteressarsi da quello che possono essere le conseguenze le dobbiamo gestire le dobbiamo accompagnare ma ci dobbiamo ricordare che quello che importa nell'economia è il saldo e non è mai soltanto i valori assoluti la transizione energetica la transizione della mobilità elettrica porterà come giustamente è stato identificato a una trasformazione dell'industria trasformazione che peraltro è già in corso perché non è soltanto l'elettrificazione il grande cambiamento ma anche la digitalizzazione pensiamo alle auto che sono sempre più connesse alle auto che sono ormai integrate nel sistema di telecomunicazione che è il fattore abilitante anche in questo caso dello sviluppo e dell'innovazione però è indubbio che ci sarà una trasformazione quindi per posti di lavoro che saranno ovviamente messi in discussione o che porranno subire delle trasformazioni ce ne saranno nuovi che nasceranno noi siamo ad esempio diciamo così un caso concreto come un grande gruppo sta investendo nella mobilità elettrica assumendo nuove professionalità diciamo con un piano di espansione concreto creando investimenti per costruire quei fattori abilitanti di cui parlavamo prima cioè quelle infrastrutture di ricarica che servono proprio per accompagnare lo sviluppo della mobilità elettrica investimenti che ricadono sul territorio investimenti che sono veicolati attraverso aziende del territorio perché ovviamente si costruiscono infrastrutture in Italia e in Spagna con mano d'opera locale e sono investimenti che abilitano un ecosistema come dicevamo prima che può determinare la richiesta di nuove anzi lo farà sicuramente di nuove competenze che devono ovviamente o essere create nel mercato del lavoro e nel mondo dell'educazione oppure riconvertiti quindi in dubbio che l'innovazione debba essere abbracciata e sostenuta in dubbio che i cambiamenti saranno e ci saranno e dovremo gestirli ma io credo che il saldo poi alla fine sarà un saldo positivo e ci consentirà di non essere anche nella mobilità diciamo elettrica il fanalino di coda nelle classifiche europee magari una volta essere io questo penso che sia un po' la nostra ambizione quella di essere un pochino da guida sullo sviluppo di quello che è il business questo richiede ripeto uno sforzo corale e soprattutto la consapevolezza che diciamo nulla si crea nulla si distrugge tutto si trasforma questo sicuramente in economia è una regola che deve essere guardata nel medio lungo termine ma che all'innovazione non si può porre diciamo così di un freno la ringrazio chiaro Gianmarco Giorda allora abbiamo parlato sicuramente della questione occupazionale quindi in questa transizione nuove competenze e un fatto importante cioè quello di anche di rottare l'istruzione i corsi universitari la nuova formazione verso questo nuovo modo di gestire la mobilità ecco un altro aspetto caro in tutto questo diciamo scenario che ci accingiamo a portare avanti è determinato anche da un altro fattore diciamo il quarto fattore di produzione all'epoca non era stato individuato ma oggi lo è cioè quello delle materie prime a suo avviso l'industria in questo momento in questa fase proprio geopolitica attuale quale sofferenze ha e quale ne avrà da qui ai prossimi anni che possa impattare l'intero sistema ma allora rispondo prima a questa questa suggestione allora per quanto riguarda le materie prime il settore sta vivendo un periodo complicatissimo perché già da da meno un anno e mezzo soffriamo di tre problemi shortage dei semiconduttori il problema dell'altissimo prezzo di molte materie prime che vengono utilizzate nell'ambito della lavorazione dell'auto e poi c'è il costo di energia che è un terzo tassello che ha creato più che una tempesta perfetta ormai parliamo di tsunami perché è veramente un è veramente difficile per molte aziende tenere aperte le fabbriche mi riferisco per esempio alle fonderie che sono molto energivore per cui ci sono aziende che preferiscono stare chiuse nonostante abbiano magari un order book importante piuttosto che tenere aperti e lavorare in perdita per cui questo problema che non è più un problema contingente perché ormai da un anno e passa che lo stiamo affrontando rischia di esserci ancora almeno per un anno un anno e mezzo e questo sta creando a livello poi produttivo degli stop and go perché ci sono produttori di veicoli che hanno degli stabilimenti che tengono aperti magari per un mese poi chiusi per due settimane chiaramente con un problema poi anche a cascata su tutta la supply chain che tra l'altro la nostra supply chain è molto collegata anche ai produttori esteri non solo nazionali la crisi in Ucraina la guerra in Ucraina meglio chiaramente ha esacerbato questo fenomeno se faccio un esempio sapevamo magari in pochi fino a qualche mese fa che una buona parte dei cablaggi in ambito automotive erano in qualche modo localizzati in Ucraina ci sono 60.000 persone oggi in Ucraina che lavorano in circa 20 multinazionali che producono cavi sono attività molto labor intensi per cui le aziende giusto o sbagliato che sia non delocalizzato negli anni in questo paese perché chiaramente aveva un costo di lavoro basso questo problema dei cablaggi sta creando di nuovo un problema di stop and go a livello produttivo tant'è che i numeri della produzione del mercato in Europa e nel mondo stanno calando in maniera vertigine uno un piano vero in Italia per la transizione verso la mobilità elettrica di nuovo il fondo è chiaramente un primo supporto noi abbiamo bisogno di rivoluzionare gli strumenti a oggi di incentivazione per esempio per l'acquisto di nuovi macchinari per la riconversione produttiva per la ricerca e sviluppo perché aiutare aziende che oggi fanno marmitte serbatoie a rifare qualcos'altro non è semplice vanno aiutate magari hanno l'idea vanno aiutate nel cambiare i macchinari e le linee di montaggio magari prendendone altre piuttosto che se l'imprenditore non ha un'idea di come trasformare le candele in qualche componente per lo statore rotore per il motore elettrico deve essere aiutato con magari ingenti anche fondi per la ricerca e sviluppo magari credito di imposta e quant'altro e poi sicuramente il risk healing è un tema fondamentale perché poi ci sono 50 anni 55 anni che oggi sanno fare bene una cosa e domani comunque dovranno probabilmente reinventarsi una mansione un'occupazione l'altro tema fondamentale è che questa transizione va aiutata da un punto di vista del mercato con un sostegno alla domanda perché se è vero che in Spagna e in Francia la market share di veicoli elettrici è più bassa rispetto alla Germania e all'Olanda non è perché agli italiani chiaramente non piace comprare la rotta elettrica ma perché l'Italia ha un reddito pro capite e anche la Spagna diverso rispetto alla Norvegia rispetto alla Germania per cui oggi c'è un delta prezzo che non è assorbibile solamente dalla volontà del consumatore di avere un'auto elettrica per cui per almeno due o tre anni non per sempre perché poi i sostegni duraturi non hanno nessun senso però per almeno due o tre anni questa transizione in Italia come anche negli altri paesi perché poi anche in Francia e in Germania c'è va accompagnata con un sostegno anche alla domanda per cui incentivi per l'acquisto di nuove autovetture elettriche elettrificate parliamo di BEV per cui auto totalmente elettriche ma anche auto praguin hybrid perché sono anche un giusto compromesso tra un motore termico e un'auto elettrica tant'è che quest'anno adesso diciamo in questi giorni aspettiamo il famoso DPCM del governo che dovrebbe introdurre almeno 600-700 milioni per incentivare la domanda abbiamo visto in questi tre mesi che in assenza di incentivi il mercato dell'auto elettrica in Italia è crollato per cui a oggi se non c'è questo sostegno purtroppo le auto non si vendono sul tema delle infrastrutture ha già detto tutta la dottoressa quello che noi abbiamo proposto anche nei vari tavoli col governo sia a livello di Mise Mims e Mite è una misura anche per favorire l'infrastruttura elettrica nei condomini e nel residenziale perché oggi il 90% degli utilizzatori di auto elettriche chiaramente vogliono poter giustamente ricaricare l'auto elettrica anche presso la propria abitazione non solo nelle postazioni chiaramente di ricarica pubblica ci sono dei crediti di imposta anche degli strumenti a basso impatto economico per lo Stato che possono essere un boost per aumentare la diffusione appunto delle infrastrutture di ricarica anche in ambiti residenziali oppure nelle aziende private per esempio il tema degli incentivi è un tema tra l'altro dibattuto in ambito europeo anche per esempio fare un esempio molto vicino nelle prossime elezioni presidenziali francesi è uno dei temi più caldi incentivi sì incentivi no in questo settore quindi insomma è un tema vivo Landolina invece ecco prima ci ha colpito veramente il fatto che sei anni fa nati e cinque anni e otto mesi che fate sostenibilità insomma è stata una bella affermazione forse anche atipico aver iniziato da subito con una sostenibilità importante ci può raccontare un paio di iniziative o di progetti che qualificano secondo lei questo sì intanto diciamo subito che una società di infrastrutture e telecomunicazioni indipendente ci chiamano Tower Company Tower Coast di fatto nasce sostenibile nel suo scopo di business perché il nostro scopo è far sì da evitare che gli operatori telefonici si facciano ognuno la propria torre creiamo sinergia e quindi significa creiamo convenienza a che gli operatori telefonici preferiscono invece utilizzare la nostra torre quindi evitiamo il diffondersi di questi abbiamo definito funghi un po' diciamo un proprio bellissimi in giro per il territorio nel nostro caso in giro per l'Italia e un'altra un'altra cosa importante è che per esempio abbiamo eliminato l'ingaggio dei condizionatori in tutte le nostre torri impiantando dei sistemi di free cooling che quindi sono senza gas che possano nuoscere l'ambiente che consumano un decimo dell'energia elettrica e quindi di nuovo aiutiamo l'ambiente aiutiamo noi stessi perché consumiamo meno e quindi diciamo così si è veramente sostenibili potrei andare avanti abbiamo lanciato un contest in azienda per cui premiamo ogni anno le 5 idee meglio sostenibili che vengano dai nostri dipendenti le premiamo le implementiamo le facciamo vivere e l'anno dopo si ricomincia perché le idee di sostenibilità di nuovo non potranno mai venire essendo esaustive dal management dovranno venire da qualsiasi parte dell'organizzazione aziendale sviluppo digitale noi abbiamo lanciato lo scorso anno la prima rete di telecomunicazioni Lora è una rete IoT in Italia stiamo utilizzando le nostre torri per diffondere questa copertura una copertura minimamente impattante praticamente ha quasi zero emissioni elettromagnetiche che copre dei device IoT che hanno una batteria che dura tra i 5 e i 7 anni e che ti permette di fare tutto anche il geoposizionamento il geoposizionamento delle colonnine ti permette di controllare la distanza è bidirezionale non soltanto leggono un contesto ma anche lo possono cambiare e funziona per tutti i casi di disaster recovery quindi quando non dovesse è complementare alla rete elettrica e quindi quando dovesse esserci per qualsiasi motivo molto spesso per un motivo antropico un'interruzione un incidento quant'altro un'interruzione della corrente elettrica con questi device con questo tipo di copertura riesci a comunque essere perfettamente consapevole di quello di quello che è successo sviluppo digitale non dobbiamo avere paura della digitalizzazione se io vedo ciò che faceva mio padre che oggi è entrato nel suo novantesimo anno che Dio diciamo lo conservi rispetto a quello che faccio io la mia vita rispetto alla sua di quando era attivo molto più multitasking molto più apparentemente stressante lui mi dice che io faccio una vita stressante io non sento di fare una vita stressante e questa cosa qui è un trend e quindi oggi si dice che ci sono degli studi fatti per cui il lavoro non dell'operaio ma il lavoro dell'amministratore delegato può essere sostituibile al 60% da un adeguato software di intelligenza artificiale qualora si occupi di un contesto molto dinamico un contesto un po' più stabile può essere sostituito al 90% quindi diventeremo inutili anche noi amministratori delegati in realtà non diventeremo inutili in realtà dovremo riciclarci in altro potremo fare altro diventeremo ancora più multitasking e magari ci divertiremo ancora di più ce lo auguriamo nel rispetto dell'ambiente Silvino per concludere questa nostra diciamo chiacchierata poi diamo spazio alle domande sicuramente è interessante un momento di scambio ecco dal suo punto di vista quali sono ancora diciamo gli ostacoli da superare perché il modello che ci ha spiegato Pocanzi possa avere una realizzazione in effetti più piena ancora di più a suo avviso ecco che cosa manca e se è un tema più locale o più a questo punto di visione strategica nazionale ecco sicuramente un tema di visione strategica nazionale che venga poi calato a quella che è la realtà delle singole dei singoli territori però permettetemi di evidenziare un aspetto sempre seguendo la sua domanda nel senso che fino adesso abbiamo parlato di trasporto di persone ma molto spesso ci dimentichiamo del trasporto delle merci della logistica della logistica urbana della logistica nazionale tutte le tematiche qui evidenziate il tema della comunicazione per il trasporto merci è importantissimo ovviamente avere veicoli adeguati e strutture di ricarica adeguate per permettere il trasporto merci ma anche consentire quindi definire delle tecnologie che possano consentire alle amministrazioni di attivare delle politiche di mobilità anche legate del trasporto merci che abbiamo visto essere cresciuto in maniera esponenziale ho letto un articolo sul Sole 24 Ore che evidenziava come intorno a Milano si stiano concentrando la maggior parte degli investimenti immobiliari legati proprio al tema della logistica urbana le persone le possiamo portare e trasportare col trasporto pubblico le merci non riusciamo a trasportare col trasporto pubblico quindi occorre definire una politica territoriale e nazionale legata al trasporto delle merci tra l'altro chiudendo poi do spazio alle domande è un tema questo importantissimo anche per il settore privato perché in tutti i bilanci non finanziari oggi il KPI il misuratore del trasporto di quanto incide un trasporto di merce e quindi se utilizza forme sostenibili o meno ha un valore come tassonomia sempre più alto quindi è un altro dei temi in cui bisogna fare ecosistema in cui bisogna veramente stringere diciamo le forze intorno ad un obiettivo comune io vi ringrazio davvero molto interessante questo punto lascerei siamo siamo nei tempi a questo punto può farle quindi l'invito a farsi avanti prego prego se può dire anche può qualificarsi grazie buonasera io sono Antonio Enrico sono il vice direttore generale di ALIS l'associazione logistica dell'intermodalità sostenibile innanzitutto plaudo a questa importante iniziativa veramente avere anche l'opportunità di dialogare di fronte ad un autorevole rappresentante delle istituzioni come il viceministro Morelli credo che sia un valore aggiunto per tutti noi la domanda va in questa direzione è stato toccato un tema molto importante che è quello della formazione delle nuove professionalità in ambito di trasporto e logistica ecco lo chiedo a ciascuno di voi senza indicare insomma una persona in particolare se voi doveste fare cioè indicare una priorità ai decisori pubblici in materia di formazione specialistica quale di queste priorità indichereste al ministero o al governo in generale la seconda domanda e mi taccio è uno dei pochi convegni in cui devo dire è stato toccato poco il tema dell'attuale scenario geopolitico internazionale che sicuramente incide in maniera significativa sul nostro comparto mi chiedevo se a vostro avviso il tema della transizione digitale il tema della transizione ecologica non siano come dire in questo momento necessariamente procrastinabili in relazione all'attuale scenario quindi cosa pensate voi riguardo a questo particolare tema grazie chi vuole rispondere visto che il tema delle competenze lo avevo sollevato io io penso che l'Italia e così anche la Spagna deve necessariamente dare un'accelerazione nello sviluppo delle attività professionali e delle competenze degli istituti tecnici professionali sembrerà paradossale nel mondo in cui viviamo ma quello che è lo shortage diciamo il punto più critico è identificare personale periti tecnici che possano andare a sviluppare e a mettere a terra gli importanti investimenti di cui abbiamo anche parlato quelli sviluppati nell'alveo della Next Generation EU periti tecnici che possono rappresentare e devono rappresentare quella forza che va poi a manutenere gli investimenti di infrastruttura che stiamo facendo in tutti i settori non solo quello della mobilità elettrica dove già diciamo noi abbiamo ad esempio in Italia oltre 14.000 oggetti attivi sul territorio circa 5.000 sono i punti di ricarica che Endesa gestisce in Spagna sono oggetti che necessitano manutenzione necessita di essere ovviamente sempre connessi e sempre disponibili per i nostri clienti quindi il mondo delle scuole professionali è un mondo che dobbiamo rifondare che dobbiamo valorizzare non è più diciamo una scuola di serie B ma servirà sempre di più e poi l'altro estremo quello del mondo dell'analisi degli analytics e dei big data perché di nuovo anche per la mobilità sostenibile tutto passa attraverso una profonda conoscenza dei comportamenti del cliente una analisi attenta dei comportamenti di utilizzo per andare a posizionare in una logica di massima efficienza e sostenibilità perché le due cose sono intimamente connesse le infrastrutture di ricarica nei posti giusti dove ci sono forte pedonabilità e confluenza di traffico e ottimizzare quindi la possibilità per il cliente di avere un'esperienza di utilizzo che sia un'esperienza piacevole e non diciamo così caratterizzata dalle ansie che possono determinare le grandi innovazioni questo è un po' secondo me il tema io partirei dalla seconda domanda sull'opportunità di procrastinare la sostenibilità in funzione di quello che sta succedendo attorno a noi io credo che non si possa e non si debba e che sarebbe soltanto una gestione inutile di ansia soltanto nel caso in cui ciò che succede accanto a noi dovesse arrivare qui ma a quel punto non si parla di procrastinare si parla di interrompere e basta e anche aggiungere per sempre quindi no quello è un circuito è un processo virtuoso che si è attivato poteva attivarsi 30 anni fa si è attivato relativamente recentemente e che non può essere interrotto o rallentato sicuramente il governo ha una può giocare un ruolo importantissimo nel calmierare spinte speculative inflazionistiche grazie anche a un'adeguata comunicazione rasserenamento di tutti i soggetti coinvolti circa il lungo termine di questa attività qualsiasi cosa sia breve abbia un periodo di breve nessuno va a investire per il futuro quello che c'è c'è si saurisce rapidamente e li scatta di inflazione probabilmente non voglio tracimare in contesti che non riguardano questo ambito però l'eco bonus per esempio è una cosa stupenda per il semplice fatto che sappiamo tutti che durerà tre anni e nessuno va più a investire e a produrre impalcature che fra tre anni ha paura che non verranno più vendute quindi quelle che ci sono costano tantissimi soldi e si vanno a recuperare se sono finite quelle italiane in Albania come cosa che si sta facendo dall'altra parte invece lei faceva la prima domanda che faceva lei che aiutami era sulle competenze sulle competenze sì io partirei alla base e qua di nuovo sono provocatorio andrei a sviluppare competenze nelle pubbliche amministrazioni locali molto locali o regionali circa la capacità di gestire i bandi europei se io penso alle centinaia di milioni di euro che vengono restituite venivano restituite alla comunità europea fino a l'altro ieri dalla Sicilia me ne d'orgo perché sono siciliano o da altre regioni per incapacità della gestione dei bandi incapacità di creare un circuito virtuoso e un acculturamento virtuoso nelle comunità locati perché questi bandi potessero essere fruiti in maniera diciamo creando un valore prospettico per il futuro allora io lì sì io andrei a uniformare se si può fare in Puglia per esempio si deve poter fare anche in Sardegna perché no perché non si riesce a fare questa compensazione di gap culturali in maniera virtuosa quello lo farei voleva intervenire rispetto a quello che ha detto la dottoressa oltre i periti tecnici se dovessi dare un suggerimento anche al governo direi di potenziare ancora di più rispetto a quello che è già stato fatto molto bene negli ITS dal nostro punto di vista come settore dell'auto gli istituti tecnici superiori sono un estremo un bacino di estremo interesse molto efficiente efficace anche per ragazzi che escono e trovano nell'80 90% lavoro in 7 8 10 mesi per cui magari focalizzare ulteriormente alcuni percorsi sui temi della mobilità sostenibile la gestione delle batterie piuttosto che anche alcuni temi legati alla cyber security senza arrivare ovviamente a fare concorrenza con i profili alti che possono uscire da ingegneria però sicuramente è uno strumento che sta dando veramente dei risultati ottimali e invece per arrivare un po' più sul concreto una figura che dal nostro punto di vista visto che si è parlato di trasporto anche delle merci una figura su cui bisognerebbe investire tanto e ridare dignità al lavoro dell'autista può sembrare un contesto magari non idoneo però sappiate che in Italia abbiamo una carenza abbiamo una carenza di tutto perché è emerso materie prime semiconduttori competenze ma l'autista è veramente una professione che sta scomparendo non è più attrattivo non è più appealing e bisognerebbe lavorare insieme per ridare dignità magari pagando di più garantendo anche delle condizioni di lavoro migliori perché l'abbiamo visto anche nell'epoca della pandemia se non ci fossero state aziende di trasporto persone che hanno continuato a girare anche durante il lockdown probabilmente non avremmo potuto sostentarci e avere una vita poi più o meno normale stando a casa se posso aggiungere poi lascio a lei su questo tema delle professioni ha un grande valore aggiunto quello che può fare la città cioè il contesto appunto integrato di enti insieme al mondo della scuola e di quello universitario perché è anche quel tessuto urbano dove la comunicazione con le porte aperte con una certa informazione perché manca quasi totalmente ormai diciamo l'informazione alle famiglie di quello che sono le nuove professioni è una grande rappresenta una bella una bella partita se posso aggiungere mi volevo collegare a quanto evidenziato dalla dottoressa sul tema dei big data perché questo per noi è un noi sono saranno almeno 4 o 5 anni che stiamo lavorando con i big data ci sono stati molto utili l'amministrazione ha apprezzato l'uso che siamo in grado di fare con i big data però è davvero molto difficile trovare professionalità in grado proprio di effettuare tutte le analisi cluster la modellistica legata proprio all'uso dei big data noi stiamo prendendo ragazzi appena usciti dall'università che ci stiamo crescendo il nostro vero problema è che li formiamo e poi ovviamente ci scappano ci scappano perché trovano lì dove prendono sicuramente molto di più di quanto possono prendere nella pubblica amministrazione quindi questo secondo me è un tema su cui l'amministrazione pubblica in generale dovrebbe un po' riflettere buonasera innanzitutto mi chiamo Pietro Piccinetti sono il vicepresidente di AF l'associazione ferita italiana faccio i complimenti al mio collega ai miei colleghi a voi avete avuto una bellissima idea lo state sviluppando nel migliore dei modi colgo l'occasione di avere un parterre di livello e anche i politici per dire che noi come la nostra industria degli eventi siamo quelli che più impattiamo siamo una delle industrie che più impattiamo sulla mobilità sostenibile immaginate che solamente in Italia annualmente prima della pandemia 35 milioni di visitatori nei nostri quartieri feristici però quello che sentiamo veramente una necessità assoluta è chiaro a voi e anche a voi non solamente dei bandi comuni europei ma anche delle regole condivise europee e delle leggi europee su questo perché noi particolarmente nella pandemia abbiamo visto io e Edoardo sediamo nel consiglio di amministrazione dell'associazione delle sfiere mondiali che ogni paese andava per sé a mio avviso se vogliamo veramente soprattutto come Europa e lo stiamo vedendo particolarmente questa grave guerra dobbiamo essere più uniti grazie grazie a lei abbiamo tempo per un'altra domanda prego grazie buonasera grazie eccellenza per questa ospitalità e un saluto al viceministro e a tutti io porto una testimonianza dagli enti locali sono stato sindaco di Pescara oggi sono assessore alla mobilità ovviamente sento molte aziende però è importante anche la voce del territorio e diciamo che la difficoltà maggiore del territorio la mia città è una città di 120 mila abitanti mi chiamo Luigi Albore Mascia e l'Italia non è formata solo da grandi aree metropolitane anzi forse il tessuto connettivo del nostro paese è formato proprio da città cittadine città come la mia che rappresenta forse un'intera regione una piccola regione ma in realtà è baricentrica e però noi viviamo da una parte la grande difficoltà dovuta alla resistenza al cambiamento delle nostre popolazioni probabilmente anche qui purtroppo nel nord Italia magari c'è una maggiore elasticità e una maggiore propensione al cambiamento mentre nel centro sud questo diventa tutto più difficile però nonostante questo la nostra esperienza è quella di andare avanti abbiamo anche noi un piano urbano della mobilità sostenibile ormai da due anni credo che Pescara sia l'ottava città in Italia per mobility sharing e questo ovviamente ci inorgoglisce però nonostante questo anche la perdita di un posto auto in città come le nostre diventa un problema ma io credo che non sia soltanto un problema delle piccole città ma anche delle grandi città dall'altra parte l'opportunità del piano nazionale di ripresa e resilienza noi stiamo implementando un sistema di trasporto ormai da diversi anni abbiamo un secondo e terzo lotto già in progettazione anzi depositato presso il ministero delle infrastrutture e mi rivolgo ovviamente al vice ministro ma ovviamente le pastoie burocratiche che l'Italia purtroppo soffre quotidianamente impediscono molto spesso anche lo sviluppo di città e quindi in questo caso anche di una regione intera proprio per il ruolo che la mia città può avere dall'altra parte mi rivolgo anche alla nostra dirigente di NLX colonnine elettriche si va avanti si va avanti anche con non solo la partnership di NLX ma anche di altri gestori non nomino la concorrenza per eleganza ma molto spesso poi il problema è anche l'installazione materiale delle colonnine per la distribuzione di energia elettrica e questo fa capo ovviamente al gestore principale dell'energia in Italia e di tutte queste cose si occupano gli amministratori locali ogni giorno non è un grido di dolore per l'amore di Dio non è ovviamente il solito modo di lamentarsi avendone le opportunità in questo parterre di tutto rilievo però è bene che questa testimonianza arrivi perché purtroppo il mondo non è tutto a colori ma c'è un mondo in bianco e nero nelle città di provincia con cui gli amministratori che sono un po' il front office quotidiano quelli con cui si relazionano i cittadini quelli più prossimi quelli più contigui ai cittadini ai cui siamo chiamati a dare risposte e ovviamente le nostre risposte sono purtroppo condizionate anche da livelli superiori ai nostri con i quali ci confrontiamo ogni giorno però nonostante questo andiamo avanti con fiducia ed ottimismo noi crediamo in tutto quello che abbiamo ascoltato e ovviamente mi è piaciuta soprattutto la riflessione sul fatto che il cambiamento va cavalcato assolutamente non va in nessun modo ostacolato e quindi in questa direzione andiamo avanti anche con questo modello spagnolo che è un modello tra l'altro a cui ci ispiriamo perché parlando di fondi europei la Spagna ha fatto un lavoro straordinario negli anni passati proprio formando ragazzi giovani personale e con la capacità di intercettare fondi europei rispetto ai quali magari noi italiani siamo stati un po' in ritardo grazie grazie a lei per la testimonianza grazie a tutti noi finiamo qua grazie grazie a tutti abbiamo risaurito il tempo grazie Elisabetta e tutti i pannellisti per il tempo che avete avuto con noi grazie ambassatore per la vostra aspettata grazie onorevole ministro grazie a tutti voi noi facciamo una bisogna unire l'utile al dilettevole quindi c'è un vino e una applausi grazie a tutti